Buonasera dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Monica Pelliccia. Apriamo con la 1 in direzione Bologna a code a tratti per traffico intenso tra Chiusi e Val Darno e tra Firenze e Scandicci e la variante di Valico. Una 12 in direzione Genova a code a tratti tra il raccordo con la 11 e il bivio con la 15. In FIPILI è chiusa l'uscita di Montelupo-Fiorentino provenendo da Firenze fino al 16 settembre, ricordiamo che si tratta di lavori per il miglioramento della sicurezza, tra Montelupo e Ginestra con restringimenti, percorsi alternativi, sull'SP12 o per i viaggi più lunghi, sull'autostrada 11. Chiudiamo con il traffico ferroviario sulla linea Bologna-Prato fino a lunedì 2 settembre per lavori di potenziamento infrastrutturale, il traffico sarà sospeso tra Prato e Pianoro. Muoversi in Toscana Info è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Anche per oggi è tutto, a domani, buon viaggio!